allora raga vi spiego si è sorriscaldato si è sorriscaldato il mio tablet e mi ha fatto scelta blue stars poi quando si è raffreddato mi ritrovi una fight da solo contro una penny poi arriva un altro team perché eravamo in scontro finale adesso e un tizio resta uno di vita rispondo al mio compagno allora la cosa era quella e abbiamo perso sono Sì, 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 sì. Sper, 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 per col, col, per, no, sto con l'Italia. Oh, poi non è l'Anita. Sì, è uscito qui. Ah, andava qualcun altro. Dai, il mio compagno, però. Vabbè, sei favorato. Andai, c'è un altro boss, non lo so. Allora, che va da qualcun altro, almeno. Vabbè, quel film. Però c'è ancora un'Anita viva. Sì. Interessante. Ecco là, ecco là, ecco là. Jumper, 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 Jumper. Jumper! Jumper! Ma perché non ho tutto l'Italia e push a persianino? Ah, ma no, ma no, così, no. Percivo, sarà una portita lenta. What a fascinating biostria! Isa. Centro e Arbermoni 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 Grazie a tutti! 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 Stupido delle cose e colpisce me, di nuovo penso così solo, se il gioco mi vuole, vorrei dimmi tra quanto vieni, che io qui mi ammazzo dal tuo gioco, na 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 Quero vieni? Non c'entra i dealer no 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 no, questo non sa giocare usa l'automila data, Waldese, 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 WaldНА è un olore, scopri! è onore, scopri! amore, non è buon' giusto, non è buon' giusto! Grazie a tutti. 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 No, 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 no per ora sopravviglia. Non mi ero accorta di stare con usciera. Stavolta addirittura quinta c'è suizioni Let's see what's buzzing! No id Giocatore 1,2,1, con il mio id Anzi aspettate Crea una squadra Suscribete Anzi aspettate Stavolta Tungle 2,2,1, con il mio id Anzi aspettate Anzi aspettate Anzi aspettate La squadra Piss Roar 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 Hip ... ... ... ... ... ... Allora, non si può avere un'altra cosa, non si può essere raffa Non si può essere raffa Non si può essere raffa Per esempio il risotto mi diamo 800 cappelli e la che mi serve in alcun momento di giocare No aspetta YouTube si chiama Ok crea codice squadra Questo ragazzi è il mio codice squadra Vi potete unire quando volete Questo è il mio codice Lo lascio per qualche secondo così lo potete copiare e incollare E io ci continuo in poi c'è anche scritto è anche qui non è mai visto il spettacolo del mio gruppo se ci vedete dove vai per me fuori c'è squadra c'è squadra c'è squadra qualcuno vuole entrare mi sa proprio di no quindi non continuiamo a giocare con i round let's go explore oh Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Sorry. Sorry. Tra quanto rispono? What a fascinating fire. La connessione. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Grazie a tutti. Come scrive? Come scrive? Comunque riguardo quello che ho scritto, che le live vengono in ritardo, tutte le live di YouTube... Grazie a tutti. 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 Aspetta un attimo. Forse riesco a salvarli in tempo. Forse riesco a salvarli in tempo. Aspetta. Aspetta. Riesco a salvarli in tempo. Aspetta un attimo. 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 Vabbè ragazzi, adesso ve lo faccio vedere in live Scaricate Omelette Arcade prima che il tablet si spegne Vi fate un account, premete qui Go live E vabbè, poi dovete mettere l'impostazione E si spegne